Scegli. È tutto qui. Devi scegliere. Scegli e datti una mossa. Muoviti. Gioca con la vita. Buttati nella mischia. Tutta questa storia riguardo il sono confuso, non lo so, non sono sicuro, non è altro che un rifiuto ad accettare la vita. Scegli qualcosa, qualunque cosa. È qui dove le persone sbagliano. Pensano che sia tutto bianco o nero. Pensano sono questo o quello. Sono un codardo oppure sono coraggioso. Sono organizzato o disorganizzato. Sono intraprendente o un temporeggiatore. Etichettano tutto e si autoetichettano. Non si rendono conto che la padronanza di qualunque cosa, coraggio compreso, è un processo graduale. Vale per qualunque cosa. Se vuoi suonare il piano, non ti siedi e inizi a suonare Mozart. Impari poco alla volta. Nel tempo. Quindi, se domani sono più coraggioso dell'1%, significa che in 100 giorni, meno di un terzo di un anno, diventerò più coraggioso del 100%. Quando le persone iniziano a cambiare il rapporto con i loro pensieri, queste smettono di essere importanti. L'aspetto più importante dell'esistenza è l'azione.